Cambia questo e anche questo. Mi hai rubato l'intervento da sotto il naso. Non era tuo, era l'intervento di Nelson. È superiore alle capacità di Nelson, giusto? Insomma, è quello che ha detto. La mia diagnosi, il mio tumore, la mia rimozione. Posso almeno lavarmi con te? Sei assegnata a Nelson oggi, se ti sposto sembrerà che faccia un favoritismo. Al dottor Nelson è stato dato un aneurisma. Tu, non parlare. Meridi, calma, la gente ci sta guardando. Mi hai rubato l'intervento. Mi ha rubato l'intervento!